musica 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 ma se pare qualcosa anche tu non l'avrei mai immaginato musica musica che palla come siete lenti dai correte musica 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 ok Questa è che per te le rito. Ops, ho sbagliato. Devi darmi questa. Perchè? Questa ha tenuto la tua. Ciccia. Perchè? 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 Questa è più contenta. Non volevo. Perchè? 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 Oh! Perchè! 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 Perchè? 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 Sì! Perchè? Sì! Perchè? Perchè! Perchè? flowowow capau ho qua água ahhh si ok vai tutti qua Facciamo riunione di famiglie, passa, passa Allora, intanto Perché lo hai rotto un cuglio, questo? Ah, ecco l'ho detto TACI Ah, ecco l'ho detto Sì, non si può fare l'otto Ah, ecco l'ho detto , hai, dammi io Non ti fai? Ah, ecco l'ho detto Adesso, infatti Si fai comunque calma E'amigo, non è palle. Non. Non mi rievo a fare le freder. E'vonica, non mi rievo a me rievo che c'è qua. oh come on come on me come in the locals are hostile oh i'm so sorry and we're trapped we need backup and we need it right now roger that just sit tight i'm on my way you hear that shiver? help on the way i just hope he gets here quick ok shiver you're up ok he's standing around the nostril stop that just catch up come on come on we need one come on come on ciao ciao oh 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 Oh, no, no, no Oh, no, no Ma ma siamo a più ci voglia Ma un tanto c'è un mira o un tanto non c'è un là Oh no! Oh no! Relay! 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 Oh no! I can't wait to see her! Oh no! Oh no! I can't wait to see her! No, no, no! Ah! He's in the middle! I'm in the middle of the game. I'm in the middle of the game. Oh no! Oh no! Oh no! I'm in the middle of the game. Oh no! He's in the middle of the game! Oh no! He's in the middle of the game! Oh no! He's done nothing! Oh He's in the middle of the game! Oh right now! e si corri ma è il modo di comportarsi con la gente ma si tracciamolo e vai e si e e e e e e e Senti Kirk, ma stai venendo in bicicletta? Sì, è una pelle del bicicletta, dai! Fatta vedere! Oh, c***o! Brava, salva il mio! Vedo una pega! Alleluia! Saluta! Saluta! Non c***o! Non c***o! Non c***o! Non c***o! Non c***o! Non c***o! Bene! Al prossimo capitolo! Non c***o! Non c***o!